Sempre dal Mobile World Congress 2016 e dal boot di Ulefone abbiamo il nuovo Ulefone Alpha che in questo caso ha una cover nera ma sarà disponibile anche in altri colori, c'è ad esempio il bianco, il gold, il grigio chiaro e anche il grigio scuro. La cover è in plastica ma ha questa bella finitura ruvida che migliora il grip, la presa, nasconde anche lo sporco e le ditate e è anche molto piacevole al tatto. Sempre sulla cover notiamo una camera da 13 megapixel con sensore Panasonic, in alternativa si può avere una camera da 8 megapixel con sensore Sony, il flash LED e poi in basso c'è il sensore di impronte. Sul lato destro abbiamo il pulsante d'accensione, due bottoni separati per la regolazione del volume, sul lato superiore abbiamo il jack audio combo e un infrared per utilizzarlo come telecomando e sul lato sinistro, oltre al cassetto per la sim card e la microSD, c'è anche questo bottone che serve a effettuare la registrazione vocale durante le chiamate. Quindi state facendo una telefonata, volete a un certo punto prendere un memo, invece di prendere appunti basta premere questo bottone e avrete una registrazione e potrete andarla a riascoltare quando ne avete bisogno. E ovviamente in basso c'è la microUSB per la ricarica e il trasferimento dati. Frontalmente è dominato da questo schermo da 5.5 pollici, sovrastato da una camera da 5 megapixel, lo schermo ha una risoluzione full HD, è uno schermo IPS, non è uno schermo in cell come altri smartphone di Ulefone. Potrete acquistare Ulefone Alpha a un prezzo molto interessante, di circa 160 euro entro un paio di settimane. E poi ultimo dato per quanto riguarda la dotazione hardware, perché all'interno troviamo un processore Mediatek MT6753 Octa-Core o in altre configurazioni MT6735 Quad-Core, ovviamente con l'ETE 4G integrato, 2 GB di RAM e 16 GB di storage. Il sistema operativo ve lo mostro. E ovviamente Android 6.0 Marshmallow.